oh il mio computer non funziona nemmeno il mio tablet credo che ci sia qualche problema con l'antenna vado a vedere che c'è che non va ragazza luna ma manca proprio l'antenna Gekko, che cosa è successo? qualcuno ha rubato la nostra antenna deve essere stata sicuramente ragazza luna la dobbiamo trovare starà progettando qualcosa di terribile questa antenna aiuterà ad accumulare molta energia manca solo una parte ma, ma dove si nasconde? così non la troveremo mai si sarà nascosta davvero bene ma che cosa è? non ho mai visto niente di simile oh, ma è la nostra antenna vado a dirlo ai ragazzi ho trovato il rifugio di luna seguitemi stacco io l'antenna ho preso la scossa cerco di disattivare il sistema ah, ho cambiato il programma nascondiamoci ah, l'ultimo dettaglio oh, ma che cosa succede? ah ce l'abbiamo fatta abbiamo ripreso la nostra antenna ciao ciao, ciao, luna girl accidenti me la pagherete ciao, ciao ciao, ciao 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 ciao